Rendere l'arte e la cultura accessibili alle persone colpite dall'Alzheimer. È questo l'obiettivo che si sono date 22 istituzioni culturali toscane, realtà che si sono costituite in una rete supportata dalla regione toscana e che conta al suo interno oltre 40 tra musei, biblioteche, orti botanici, spazi espositivi. Il progetto si chiama Musei Toscani per l'Alzheimer e va avanti da 10 anni. Vogliamo uscire dalla dinamica che le persone sono solo la loro malattia e smettono di essere le loro emozioni, le loro capacità anche ridotte di interazione. Vogliamo rispondere ai bisogni delle persone, delle famiglie, non solamente in termini di assistenza ma anche di possibilità di dire siamo ancora cittadini di queste nostre comunità, viviamo perfettamente in queste comunità con le nostre difficoltà, con le nostre emozioni. Insomma, la cultura si fonde con il sociale, con questo progetto di sostegno a una parte fragile della popolazione nell'intento di combatterne l'isolamento e di offrire stimoli importanti in quest'anno di pandemia da Covid-19 in cui la rete dei musei per l'Alzheimer ha operato a distanza continuando a sviluppare nuove modalità per rimanere in contatto con i destinatari delle sue proposte. I riscontri che abbiamo sono straordinari e la cosa interessante è anche che in questo periodo, che è stato un periodo difficile, è un periodo difficile anche per i musei. I musei sono chiusi in gran parte eppure hanno cercato tante maniere anche molto creative di tenersi in contatto con il loro pubblico, anche con il pubblico delle persone con demenza. Grazie a tutti.